Peppe Carriero Secondo me non è contento di vederci No, è sempre contento di vederci Ciao Peppe Allora, quando fai gol sono tre punti così come è successo col Potenza così come è successo oggi innanzitutto sei contento per il tuo gol ma soprattutto per la vittoria della squadra che vince la terza trasferta di fila Sì, come ho detto prima al vostro collega era una partita molto non è stata una partita bella da vedere magari rispetto agli ultimi due che abbiamo giocato però il campo non ce l'ha permesso di essere belli però a differenza magari dalle prime partite siamo stati meno belli ma più cinici più affamati di vittoria abbiamo subito gli ultimi dieci minuti per un evidente calo comunque il campo era pesantissimo però l'importante era portare a casa i tre punti anche per onorare l'anniversario dell'Avellino Calcio e ci siamo riusciti Diciamo prima con Francesco Forte esame superato perché si parlava che le partite con le grandi si preparano da sole era con le piccole che l'Avellino faceva più fatica però insomma oggi non si è subito gol e si sono portati a casa i tre punti Sì sì, l'Avellino è superato alla grande ripeto, una gara è difficilissima perché in un campo così tutto è possibile però siamo stati lì sul pezzo concentrati abbiamo tirato fuori tutto quello che potevamo in quel momento ne è bastato un gol potevamo chiuderla magari se vuoi trovare il pelo nell'uovo però va bene così Tu come stai fisicamente? Cosa ti ha dato questo gol? No, io sto bene fisicamente mi sono ripreso dall'infortunio già col Bari stavo abbastanza bene poi ritrovare anche il mio ruolo naturale mi aiuta ecco sicuramente quindi sto bene, lavoro e vado avanti Si lavorerà con serenità da martedì per preparare l'ultima del girone di andata contro il Foggia che come dicevamo già prima insomma arriva Zeman un ex Avellino un maestro del calcio Sì, sì, assolutamente sarà una bella partita una bella sfida poi so che è sentita molto sentita Avellino-Foggia c'è rivalità quindi sarà un'altra partita bella da giocare sicuramente noi vogliamo chiudere questa 2021 in maniera tranquilla e serena per goderci anche delle vacanze di giorni di riposo con la famiglia le feste e poi per riprendere anche con più entusiasmo Hai una dedica per il gol? Ma la voglio dedicare ai miei nonni che non ci sono più purtroppo una sì la dedico a loro mi fa sempre piacere ricordarle Grazie